Come sempre, non guardate questo video se non vorrete avere spoiler sulla quinta stagione di Steven Universe. Rebecca Sugar, in un'intervista, ha rivelato che la storia d'amore fra Greg e Rose rappresenta effettivamente la storia d'amore fra la realtà e la fantasia. Ovviamente questa è una cosa che riguarda soprattutto Greg e Rose, ma che si ripete in Steven e Connie. Connie ha una vita perfettamente prevista e calcolata. Connie ha la tipica vita che non ha nulla di speciale. Quella normale, dove Connie non è che soffra. Non è che a Connie abbia qualcosa di brutto che le sia successo, qualcosa di terribile come un sacco di altre gemme, dove c'è un passato terrificante che le attanaglia e le fa soffrire. No, 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 no. Connie ha la vita più normale del mondo. Va a scuola, ha una madre e un padre. Figlia unica ma benestante. Non ha nessun tipo di problema. Ma forse è proprio qui il problema. Connie ha dei continui no. Lei non può mangiare le ciambelle. Ve lo ricordo, casomai ve lo foste dimenticati. Connie viene ogni tanto a Beach City, ma non passa tempo con i suoi genitori. e non ha amici e deve restare sola sulla spiaggia a guardare le barche. Connie vive nei libri, perché sono l'unica cosa interessante della sua vita, perché altrimenti ci sono le partite di tennis. Connie ha una vita normale. Non ha nulla che non vada, ma è normale. E resta molto male quando scopre che Steven ha un destino magico. Steven è destinato a grandi cose. Comunque le cose vadano, che vadano a finire bene o male. La sua sarà comunque un'avventura. E poi c'è Connie, che non ha nulla. La sua vita va bene. Fine. La sua vita va bene. E tutto fila liscio. La sensazione che prova Connie, che forse qualcuno di voi ha già provato, è quella dello spettatore del film. Cioè, quando voi siete al cinema e state guardando un film, non potete far nulla per quello che accade. Puoi avere paura, puoi sperare, puoi fare un milione di cose, ma non puoi far nulla. Non puoi cambiare ciò che sta succedendo. E non ti conviene. Essendo in questa posizione di persona che guarda accadere le cose e non può farci nulla, e la vita semplicemente va avanti, non accade mai nulla di interessante, è ovvio che lei si ritrovi in una situazione in cui, quando Perle deve dare l'opportunità di usare una spada, lei è la prima a dire ok, visto che io non valgo nulla e che la mia vita non è importante, bene, impariamo a usare la spada e difendiamo Steven, perché Steven è importante. Già, Steven, perché Steven ha sofferto, perché Steven non ha più la madre, perché Steven ha un destino magico, perché Steven stanno accadendo un sacco di cose molto importanti, a me no, e quindi io non sono importante. Una cosa che io non ho mai sopportato sono quelle frasi Tumblr o altro del genere che dicono che seriamente, e io non la sopporto proprio questa cosa, le persone che hanno sofferto solo loro possono capire dove praticamente si è creato questa distinzione dove da un lato ci sono le persone che hanno sofferto, che sono più mature, che sanno che cosa significa passare certe cose, che sono poverine, perché loro sono persone che ne hanno passate di tutti i colori, e io vedo questa situazione dove chi ha avuto un tumore viene trattato come un poverino, o mio Dio, o povero, chi è su una sede a rotelle, o mio Dio, vuoi il mio aiuto, ti serve qualcosa, e quindi tutte le persone che hanno avuto qualcosa di brutto nel corso della loro vita, e la maggior parte delle persone, viene considerata come migliore rispetto agli altri. Come se chi avesse sofferto nella propria vita fosse improvvisamente diventato più maturo e più forte rispetto agli altri, e poi ci sono le persone a cui non è mai successo nulla. Insomma, ho sentito un sacco di gente dire che solo quando arrivi alla morte capisce il vero significato della vita. Sentite, sentite, io sono arrivato tanto così dalla mia morte in tante occasioni nella mia vita, ok? E quando tu sei in ospedale e ti dicono che tu sei sopravvissuto per 20 minuti, perché se avessero aspettato altri 20 minuti saresti morto, e non ci sarebbe stato nulla da fare, e dove tu sei in una situazione in cui devi imparare di nuovo a camminare, perché non ne sei più capace, perché hai passato troppo tempo sotto effetto di un trauma e a letto, e tu ti devi alzare, dopo esserti nutrito per una settimana con la flebo devi imparare di nuovo a mangiare. in una situazione del genere certo che rivaluti la tua vita. Non c'è modo di dire che non sia vero. Improvvisamente tutto cambia un significato e vuoi risolvere tutti i problemi della tua vita e a volte ci riesci, altre volte rischi di ammazzare qualcuno. Ma sta di fatto che non è giusto trattare le persone che non hanno sofferto, che non hanno avuto la famosa vita di merda che tutti hanno avuto. No, non è giusto trattare le persone che non hanno passato chissà quale grande avventura come se fossero persone di serie B. Come se fossero persone che ok, sì, hai sofferto anche tu, però io, perché sì, è questo che succede quando si parla delle proprie sofferenze, ok? A me è successo questo, e a te è successo questo, a me è successo questo, che è ancora più grave. Eh ma tu non lo sapevi, ma a me è successo questo, che è ancora più grave. e vanno avanti all'infinito a parlare di quanto uno abbia sofferto più dell'altro, come se io ho sofferto più di te, allora sono migliore di te. C'è un sacco di gente che dice le persone viziate che sono state cresciute da genitori ricchi hanno sempre avuto tutto quello che volevano, non hanno mai dovuto lottare per ottenere niente, gli hanno tutti quanti parenti in vita, non hanno mai perso nulla, non hanno mai rischiato nulla, beh, loro saranno di sicuro più superficiali. Si chiama stereotipo questa cosa, ok? È stupidissimo dire che chi non ha sofferto vale meno di chi ha sofferto, o che chi non ha sofferto di sicuro è più probabile che sia meno maturo rispetto a chi ha sofferto. No, 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 no. C'è gente che ha sofferto per tutta la vita e non ha imparato una beata da quella sofferenza. C'è gente che non ha mai sofferto nulla ma che ha un'empatia che Dio mio salverà la vita alla gente da grande. Voi non potete giudicare una persona, punto, non mi interessa, ok? Punto, non puoi giudicare una persona. Posso capire che sembri sensato dire, ok, la giudico in base al suo passato, in base a quello che ha vissuto, ma è sbagliato, è sbagliato. Cos'è adesso dobbiamo essere tutti quanti dei sofferenti che ne hanno passati di tutti i colori per essere profondi? Abbiamo bisogno di aver passato una vita di sofferenze e cose terrificanti per essere profondi? Sentite, fidatevi se vi dico che io ne ho passate di cose brutte, ma non significa che io in qualche modo sia più maturo o altro del genere rispetto ad altri. Se sono maturo o non maturo o qualsiasi altra cosa io possa essere, è per motivi non misurabili, dove non posso considerarmi automaticamente più maturo o meno maturo di qualcun altro, ok? Perché io non lo so che cosa c'è dentro la testa di quelle persone, perché magari quella persona che tu consideri meno matura in realtà semplicemente non è in grado di esprimere la sua maturità. Quindi smettetela di dire che la gente che non ha sofferto non soffre, che la gente che non ha sofferto non capisce, che la gente che non ha sofferto non può, la gente che non ha sofferto non ha sofferto, è questa l'unica differenza rispetto a una persona che ha sofferto. E le persone che non hanno sofferto per colpa di queste cose si ritrovano ad essere quelle che stanno peggio quando vengono tagliate fuori, perché è come se loro avessero bisogno di vivere delle avventure nel corso della loro vita. E quindi sapete che succede? Che vivono nell'avventura degli altri, come le pettegole di paesi che hanno bisogno di vivere nelle storie che vengono raccontate intorno a loro dalle altre pettegole. Ok? È lo stesso concetto. Connie viene tagliata fuori da Steven, viene messa da parte a un certo punto, perché Steven la vuole proteggere, perché non vuole che le accadano cose brutte. E Connie com'è che prende questa cosa? Molto male. Certo, stava sbagliando anche Steven perché voleva smettere di essere suo amico o altro del genere, quando invece doveva accettare l'idea che sarebbero successe cose brutte che avrebbero messo a rischio Connie. Ma dall'altra parte c'è Connie che si ritrova in più occasioni a voler essere partecipe delle cose brutte che accadono a Steven, come se quelle avventure fossero una cosa positiva, come se quella sofferenza che Steven si ritrova ad affrontare fosse necessaria, ce ne fosse davvero bisogno. Connie viene messa da parte due volte da Steven. due volte quando non la vuole più rendere partecipe di quello che è successo dopo essere stato rapito da Jasper e aver visto Malachite e quando non vuole renderla partecipe di ciò che è successo sul pianeta natale dove non si preoccupa, dove Steven non si preoccupa di quello che ha provato Connie perché Connie non c'era sul pianeta natale. Steven ha fatto questo enorme errore che è quello che fanno le stesse persone che pensano che chi non ha sofferto sia in qualche modo meno maturo, meno vissuto rispetto agli altri. Ma se Connie non ha mai sofferto è merito di sua madre che per quanto abbia altri difetti tipo il fatto di non essersi nemmeno accorta che sua figlia non aveva le lenti negli occhiali cioè sul serio ignori fino a questo punto tua figlia? No, la madre di Connie non l'ascolta ha tanti difetti ma dall'altro lato la madre di Connie è stata bravissima a proteggerla per tutta la vita. Certo la protetta anche da cose buone ha fatto i suoi errori non è che sia una santa la madre di Connie anzi ma la protetta e la protetta per bene così come Diamante Giallo ha fatto con Diamante Rosa forse è per questo che la faccia di Diamante Giallo e la faccia della madre di Connie sono uguali perché sono due personaggi molto molto analoghi sono due imperatrici che costringono le proprie figlie a fare quello che dicono loro quando lo dicono loro senza preoccuparsi di ciò che provano questo perché vogliono bene alle loro figlie questo perché amano ciò che sono le loro figlie perché le vogliono proteggere una protezione che però è fin troppo forte tant'è vero che sono quasi più prigioniere ma lo scopo di Diamante Giallo è quello di proteggere le sue gemme per questo è contrario alla ribellione perché la ribellione in realtà è pericolosa per l'equilibrio del pianeta natale perché come dirò in un video in cui parlerò del pianeta natale nello specifico il pianeta natale non può sopravvivere con la ribellione non può semplicemente accettarla lo so che sarebbe una cosa bella da fare ma non può farlo perché se accettasse la ribellione capiterebbe il caos il caos che c'è nel nostro mondo all'interno del pianeta natale non ci sono guerre questo viene dimostrato anche dal fatto che dopo la ribellione non ci siano più state guerre le ametiste che sono nate sulla terra non hanno mai dovuto affrontare una guerra e quindi restano da sole con Agatha Blue e il pianeta natale non ha più dovuto affrontare guerre perché non ci sono guerre nel pianeta natale perché il pianeta natale è utopico distopico riesce perfettamente a non avere guerre il fatto che sul pianeta natale non ci siano guerre significa anche però che ci sono un sacco di cose a quelle gemme hanno dovuto rinunciare per esempio la loro individualità personale perché è la nostra individualità a portarci a litigare e a fare guerre capite? Diamante Giallo e la madre di Connie sono due personaggi molto simili autoritari che si fingono molto forti che vogliono proteggere le persone che amano anche se in realtà non le capiscono fino in fondo anche se in realtà provocano altri tipi di sofferenze all'interno di quelle persone ma loro loro sono austere severe ma sanno quello che fanno sanno perfettamente che stanno proteggendo nel migliore dei modi possibili le persone che amano quindi se vi sentite come Connie e pensate che la vostra vita non valga nulla perché non succede nulla di particolare perché ci sono vostri coetanei che vanno in Africa a salvare i bambini e a salvare la gente dalla guerra beh il fatto che voi non facciate nulla di eroico che non abbiate passato nulla di terribile e che non sia successo nulla di particolare nella vostra vita non vi rende peggiori rispetto agli altri non vi manca nulla lo so sembra noioso una vita non avventurosa ma fidatevi che chi ha una vita avventurosa ci si abitua e la trova noiosa inizia inizia non vi rende peggiori a tutti non vi rende peggiori